Buone notizie per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Dopo una lunga trattativa seguita alla decisione di Ryanair di lasciare lo scalo pescarese, la regione aveva iniziato una serie di incontri istituzionali con il governo che portasse ad una revoca della famosa tassa aeroportuale apposta dallo scorso mese di gennaio per sostenere l'Italia. Ryanair lamentava una perdita netta da capogiro sul costo dei propri biglietti ed ecco il perché di quella decisione che aveva coinvolto anche altri scali nazionali. Resta sul tavolo intanto la questione degli aiuti di Stato negati alle regioni per il mantenimento delle imponenti infrastrutture aeroportuali. Quello che si sta approvando in aula al Parlamento a Roma è quello dell'addizionale comunale sugli aeroporti quindi sulla bigliettazione. Noi con un grosso lavoro come Regione Abruzzo grazie anche al Presidente della Giunta regionale dal fondo che in questi mesi sta lavorando in maniera forte e continua con Graziano del Rio, con il Presidente Renzi e si è divenuta una risoluzione che porterà un emendamento governativo nella discussione degli enti locali proprio oggi a Roma e quindi dal 1 settembre verrà tolto questa addizionale comunale sugli aeroporti e quindi permetterà a Ryanair non solo a Pescara in Abruzzo ma anche in altri aeroporti d'Italia a mantenere il volo. Un'altra partita da giocare importante è quella di Alitalia è quella di riportare il collegamento con Fiumicino, un'altra partita, quasi un effetto domino che era scatorito proprio dopo le dichiarazioni di Ryanair. Per questo punto come si muove la Regione? Io sono convinto che questo provvedimento che il Parlamento oggi approverà in aula riapra tante possibilità con altri vettori. C'è la discussione che era partita alcuni mesi fa sulla Roma Fiumicino e credo che gli organi, i vertici della saga ma soprattutto credo che anche la Regione Abruzzo, la questione della trasportistica debba riprendere immediatamente. Io credo che sia raggiunto un punto fondamentale oggi che apre uno scenario nuovo a quello che potrebbe essere la Regione Abruzzo con il suo aeroporto.